Il mio suocere l'ho visto la domenica sera, la sera del 30, esatto. Mio marito insieme al fratello è stato, diciamo, dei figli l'ultimo a vederlo. È andato via da casa dopo la nottata di lavoro per recarsi dalla consulente. E invece poi abbiamo saputo che lì non c'è mai stato e in mezzo l'hanno ritrovato in un primo momento le figlie. Tutti loro insieme l'hanno cercato, hanno dato l'allarme. E l'ultima volta che l'hanno visto è stato l'uno mattina, intorno tra le 11.30, le 12.00 meno un quarto. Questo qua è più o meno l'orario. Come mai il mezzo è stato trovato a Mongiove? Proprio a Mongiove e non in un altro posto? Io questa cosa non so spiegarmela con certezza, però abbiamo pensato che magari dopo la nottata di lavoro, un po' affaticato, volesse recarsi al santuario e lasciarlo a Mongiove. Un'ora di camminata per lui sarebbe stata più che sostenibile, ecco. Perché è un uomo abbastanza agile nei movimenti, un tipo che nella natura, nelle campagne, ci ha sempre lavorato con gli animali. Perché lui è un artigiano, è un panettiere, però è anche un uomo di campagna. Passeggiate a piedi, passeggiate a cavallo, perché con i figli condivide questa passione. è devoto alla Madonna del Tindari. Lui, a prescindere dalla solita usanza paesana, di recarsi verso la fine di maggio in pellegrinaggio al santuario. Lui anche in modo solitario, pure per il lavoro che faceva, a cavallo con la notte che non doveva appunto panificare, si recava dalla Madonna. Adesso non le so dire se annualmente l'ha fatto, io non ricordo ora. Però non è una cosa per noi inusuale. È inusuale che magari, certo, non ci abbia avvisati. A Mongiove lì ha un'azienda? No, questa è una notizia sbagliata. Lì non abbiamo nessun terreno, non abbiamo, non ha. Né lui, né nessun altro membro della famiglia in gestione o di proprietà, nulla. Abbiamo la conferma che lui si sia avviato a piedi perché c'è stata una segnalazione poi confermata dalle telecamere che lo vedono arrivare al santuario che si è recato appunto a piedi. Da casa non manca nulla, non fa presa a gira ad un allontanamento con quell'intento di mancare per giorni, un cambio di vestiti, anche il contante che poteva avere in camera è rimasto. Niente fa pensare a qualcosa che progettasse per lungo tempo. Infatti la nostra prima preoccupazione è stata un malore, un malore che gli ha impedito di rientrare. Ora i giorni sono passati, sono dodici, non so, uno perde un po' il senso del tempo. Non è stato ringraziando a Dio, ho trovato perché trovarlo lì vicino dopo tanto tempo non fa pensare bene, quindi un po' ci dà da sperare, però allo stesso tempo ci lascia nella confusione più totale, non sappiamo ipotizzare cosa possa essere successo. Grazie. Grazie.